O che sembra in Norvegia così? Da un paese a un altro così senza frontiere? Io mi aspettavo, che ne so, controlli massicci. Comunque siamo in Norvegia! Poi è arrivato il messaggio del telefono che lo conferma, che noi si va dietro al messaggio del telefono che ti dà il benvenuto, che cambi numeri, insomma, perché sennò qui non te ne rendi mica conto. Bene, 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 ma poi senza niente c'è né un casallo né niente. E meno male, che mi dà che noi ci fermiamo subito in questo stato. Via. No, non ce n'è ingressi riservati. Quindi, se abbiamo il cane non si mangia? No, c'è qualcosa all'aperto. Oh! 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 Grazie a tutti. E' un hamburger però, un hamburger sulla riva dell'acqua ghiacciata, si sta di molto molto bene. Teddy, mi raccomando eh. Il coltello è andato? Via. Vedi a ciò. Vedi. 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 Adesso provo a rismontare il faro e vedo un attimino com'è la situazione. Dai, poi se mai si rimpiame. Dai, ciao Davide, ciao ciao. E' questo filo qui che adesso provo a stringerlo un po'. E' qualcosa da dire? Può dire che no. Oh, vedrai un po' di fanale, credo che sia. Non che sia, dobbiamo mettere un po' di contatto e dargli un po' di contatto. Ora sono spegne. Vai. Vai. Vai quello forte. Non funziona. La posizione, sì. La posizione, sì. Sì. Ah, ma giurata la macchina dentro. Ehi. Ehi. Vieni a vedere. Ora. Ora è mio primo avio, mentre è il caffè. Ehi. Sì. 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 Ehi. Sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, te lo devi dire quando fai il video perché ero qui che scriveva Fabio. Hai fatto bene. Comunque, guarda che va il traghettino. Il mare è calmo. Meno male. Il caldo fa caldo. Comunque, un po' di stick. Ti vedo un po' agitato però, eh? Così stai guardando? È un vaccino alla mamma. Sì, ho dato lo stick ora. Sì, è un vaccino. Sì, è un vaccino. Sì, è un vaccino. Sì, è un vaccino. Sì, sono circa tre chilometri così. Non devi pensare mai, vero amore? Dove siamo? No, no. Sì, è un vaccino. Ma intanto per la lunghezza, per quello che c'è sopra. È sopra, oh. Ora, tra un po' ci si arriva. Oh, adesso qua devo andare a destra, dice il signor navigatore. Sì, come fare un a uno. Anche la cera. Questo va già gelato. Tra 400 metri sarai arrivato a destinazione. Sì, come fare un po' ci si arriva a fare un po' ci si arriva a fare un po' ci si arriva. Sì, come fare un po' ci si arriva a fare un po' ci si arriva a fare un po' ci si arriva. But no one makes me fearless alive. Sì, come fare un po' ci si arriva a fare un po' ci si arriva. Sì, come fare un po' ci si arriva a fare un po' ci si arriva. Sì, come fare un po' ci si arriva a fare un po' ci si arriva. Dai, dietro